esplode la rabbia degli studenti dell'istituto nautico di torre del greco alla base della protesta questa mattina la mancata accensione dei termosifoni una problematica che con l'arrivo del freddo si fa sentire particolarmente e che si protrae a detta degli studenti già dal mese di novembre gli alunni ospitati nei locali dell'ex pretura hanno deciso oggi come si evince dalle immagini di saltare le lezioni e si dicono intenzionati a proseguire nella mobilitazione fino a quando la dirigenza della scuola non provvederà a risolvere la questione buongiorno siamo caldano con il professor Sura e Kino Naudino siamo qui a professare per la mancata accensione dei termosifoni stiamo contando a professare anche non c'è l'accensione non c'è un film di popolità non c'è un film di popolità